Se una persona non sa da dove viene è una persona incompleta, il nostro presidente dice sempre che è meglio un'atroce verità piuttosto che il buio. Per me è quello che dice il presidente, non me ne frega niente, sta madre che tanto cerchi in dove stava, dove stava quando ti svegliavi la notte da solo, piangerevi perché ci avevi paura, dove stava quando hai fatto il primo passo, il primo dente, dove stava quando ti sei innamorato la prima volta, dove stava. Una bruttarella ti ha lasciato, la madre c'è, c'è quando ti serve, e ora che ti serve? A me serve sapere la mia storia, mi serve per sapere chi sono realmente. Davvero te pensi che per sapere chi sei devi sapere chi era tua madre? Ma lei, lei mi vuole far credere che in tutti questi anni, in cent'anni di vita, lei non si è mai chiesto una volta Oh, voglio sapere chi è mia madre, come si chiamava, come era fatta, che lavoro faceva, quanti anni aveva quando mi ha fatto nascere, non si è mai domandato se le somigliava, se aveva anche dei fratelli. Tutto questo lei non se l'è mai chiesto in cent'anni, io non ci credo. Che io pensi a me che cosa, che cosa sono diventato, non basta sapere la vita che ho fatto.